Professore Tinaglia, spesso ci capita di vedere in giro per le nostre città gruppi di stranieri ed ecco che oggi dai nostri studi vuole lanciare una proposta alla città o più che altro alle cooperative che gestiscono questi gruppi di giovani. La proposta non è mia, ma viene proprio da una legge che dovrebbe essere approvata, che è portata avanti dal ministro Minniti, con la quale si vorrebbe stabilire che nei paesi bisognerebbe dare accoglienza a 2,8 abitanti che richiederebbero asilo politico. Bene, questi emigranti a Favara potrebbero essere intorno a 90, per esempio 90-95, la popolazione si aggira intorno a 33.000, quindi facciamo i conti, sarebbe più o meno questo. E comunque il problema reale è un altro, noi parliamo spesso di questo problema, specialmente a Favara se ne parla moltissimo. Non dimentichiamo che Favara ha nel mondo circa 10, oltre 10.000 emigranti distribuiti in tutto il mondo. Non c'è paese forse nel mondo in cui non ci sia qualche favarese. Ebbene, saper accogliere chi ha bisogno per me, per me, per la mia costituzione, per la mia politica, per il mio impegno sociale, è un dovere, diritto. Al di là però di questo ci sono altre persone che magari giustamente si lamentano perché a Favara c'è disoccupazione. Questi verrebbero a togliere lavoro ai nostri emigranti. Io ritengo che non bisognerebbe puntare su questo problema così, ma bisognerebbe dare invece a questi emigranti la possibilità di poter svolgere tranquillamente un lavoro socialmente utile e così poter camminare con la testa alta a Favara, invece di sembrare dei fannulloni che girano per le strade, essere persone normali che vorrebbero svolgere tranquillamente un lavoro senza nuocere alla collettività. Bene, questo discorso però io lo rivolgo soprattutto ai partiti politici, all'amministrazione comunale, alle cooperative, perché dare la possibilità a questi emigranti di poter svolgere un proprio lavoro mi pare che sia anche una cosa molto dignitosa, perché non sarebbero più degli sfruttatori, ma sarebbero persone che vorrebbero collaborare con i favaresi per rendere il nostro paese, in questo caso più sano, più civile, più ricco di professionalità. Ebbene, se questa potesse diventare una discussione serena e tranquilla, ritengo che potrebbe giovare a tutta quanta la cittadinanza di Favara. Un lavoro socialmente utile che però non andrebbe ad intaccare il lavoro che già svolgono dipendenti del Comune? Quello deve essere salvaguardato, perché i nostri dipendenti devono svolgere il proprio dovere. Questo di qua sarebbe un'aggregazione, questo di qua sarebbe una collaborazione per rendere la nostra città sempre più vivibile, così non avremmo magari questa tentazione di parlare male degli emigrati, eccetera, sono secondo me personaggi che vanno rispettati, come va rispettato ogni singolo cittadino.